Perché essere gentili? Essere gentili è rilassante, ecco perché conviene farlo. Essere gentili. Quando cammini per strada, rilassato, rilassata, se ti avvicini a qualcuno perché le vostre strade per un attimo vi portano a percorrere a pochi metri di distanza, vi vedete, sorridi. Questo non significa un approccio, questo non significa la base di sorridi e basta. Gentilezza. Uno sta posteggiando, tu arrivi dietro, ha bisogno di dieci secondi in più per fare la manovra. Aspetta dieci secondi, tanto, tanto! Le bombe che tu finanzi, quando scoppiano, scoppiano senza avvisarti, quindi dieci secondi più in meno le bombe che tu finanzi. Non sono un problema, giusto? No, le finanzi. E allora sii gentile, aspetta quello che ha bisogno di dieci secondi in più per posteggiare. Sii gentile! Quando in coda al supermercato, quello davanti a te che sta pagando, ci mette un minuto di più perché non trova la carta di credito nel portafoglio. Eh, vabbè, succede. Tanto, quando ti vogliono raccontare che ci sono i cataclismi, te lo raccontano senza domandarti scusa, ti posso far perdere un minuto? E tu lo accetti. Essere gentili rilassa. E siccome possiamo essere gentili decine di volte, ogni giorno, essere gentili è un'azione costruttiva che possiamo moltiplicare decine di volte ogni giorno. Non ti consumi, eh? Non ti consumi se aiuti una persona momentaneamente in difficoltà. Non ti consumi se educatamente, senza doppi fini sessuali, sorridi quando incontri qualcuno anche se non lo conosci. Non ti consumi se dici buongiorno, buonasera, in modo pieno. Non ti consumi se aspetti un minuto. Questo è rilassante. Lascia agli esperti accumulatori seriali di bombe, lascia a loro il delirio della pazzia. E' già, ma è scritto, c'è tempo di guerra, c'è scritto, e lascia a loro quello che c'è scritto. La gentilezza rasserena è il minimo per degli esseri umani evoluti. e il minimo per l'esercizio. Grazie a tutti